Mediaset ha in mente di apportare una vera e propria rivoluzione al palinsesto TV, con Silvia Toffan in altimone di altri programmi Nell'ultimo anno a Mediaset ci sono stati dei cambiamenti importanti che hanno spiazzato decisamente il pubblico Parliamo, per esempio, dell'uscita di scena di Barbara D'Urso da pomeriggio 5 e dall'azienda Pier Silvio Berlusconi ha infatti affidato il programma, dalla nuova stagione televisiva iniziata a settembre 2023, a Mirta Merlino che ha così salutato la sette e l'aria che tira È stato un vero e proprio colpo di scena che la stessa D'Urso non si aspettava Non sorprende, quindi, che l'amministratore delegato stia pensando ad altre modifiche da apportare nell'azienda e soprattutto nel palinsesto della rete Da qualche giorno, infatti, sono spuntate una serie di indiscrezioni che vedono al centro dell'attenzione, questa volta, Silvia Toffan in Si dice, infatti, che insieme alla conduzione di Verissimo, che da alcuni anni va in onda sia il sabato che la domenica, potrebbe prendere il timone di altri programmi Punto Silvia Toffan in, spunta una clamorosa indiscrezione, la conduttrice pronta ad altri programmi Da qualche giorno sono cominciate a circolare delle pesanti indiscrezioni, che parlano di una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset Questa volta, però, protagonista dei Rumors è Silvia Toffan in, compagna dell'amministratore delegato della stessa azienda Infatti pare che la conduttrice potrebbe, dalla prossima stagione televisiva, presentando la nuova edizione dell'Isola dei Famosi Sembrerebbe, quindi, non essere confermata la presenza di Vladimir Luxuria per il secondo anno consecutivo Ma non è finita qui, perché nel palinsesto del 2025, dovrebbe ritornare il reality show La Talpa Da un paio di anni si dice che il programma sia solo in attesa di avere una programmazione definitiva, ma che il suo ritorno non dovrebbe essere lontano, dato che la conferma è arrivata più volte Ebbene, il format che negli ultimi due anni di messa in onda è stato condotto da Paola Perego, potrebbe vedere al timone proprio la Toffan in Nonostante lei più volte abbia detto di non voler presenziare in prima serata, potrebbe esserci un colpo di scena a partire dalla prossima stagione televisiva Il nome di Silvia sembra essere tra i papabili conduttori, ma non è da escludere la presenza di Enrico Papi Al momento, però, si tratta soltanto di indiscrezioni e non c'è nessuna conferma ufficiale